Per la prima volta nessun malato di coronavirus ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Morelli. In una settimana sceso di 11 unità, il numero dei degenti oggi sono 100, ma si muore ancora. Oggi prima giornata di riapertura al completo del commercio, negozi di ogni tipo, bar e ristoranti hanno ripreso l'attività, le precauzioni da rispettare sono tante, dicono gli operatori, ma c'è voglia di futuro. Poteva avere conseguenze ben più gravi l'infortunio sul lavoro di oggi allo stabilimento tessuti di Sondrio, operaio resta impigliato col braccio nel macchinario, i colleghi lo salvano prima che l'arto venga stritolato. Da oggi si tornano a celebrare le messe in chiesa a Morbenio i più devoti che hanno sofferto la lunga privazione della liturgia collettiva. Il vicario, la fede ci aiuti a non dimenticare quanto è successo. Buonasera dal telegiornale di Unica Sondrio, buone notizie dall'ospedale Morelli. Da sabato non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva, non era mai accaduto sinora dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Continuano a calare i degenti, il loro numero sta per scendere sotto quota 100. All'ospedale Morelli di Sondalo, la dodicesima settimana dall'inizio dell'emergenza coronavirus, si apre con una bella notizia di quelle che hanno un valore simbolico e anche sostanziale al tempo stesso e che danno il senso dei progressi che si stanno compiendo nella lotta al coronavirus e nella cura dei malati. Per la prima volta nel presidio dell'Alta Valle, individuato dalla regione come ospedale Covid, non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il coronavirus non è vinto, ma la fase più acuta della pandemia pare alle spalle, se definitivamente o meno, dipenderà anche da noi. Intanto da due giorni quel reparto che ha segnato il fronte più doloroso e drammatico della malattia per chi ne soffre e per chi la contrasta curando i degenti, arrivando ad ospitare anche più di 20 persone, oggi è vuoto. Un dato non acquisito per sempre, ma certo di grande valore, un traguardo simbolico che corona idealmente è il compimento di una tappa importante. Giusto lo spunto per un sollievo, ma niente trionfalismi, non è certo ancora il momento, perché di coronavirus ci si ammala e si muore ancora in provincia di Sondrio, anche se a ritmi ben diversi dai mesi scorsi, ma soprattutto si guarisce. Secondo i dati di SST, Valtellina e Alto Lario, da venerdì a oggi ci sono stati ancora tre decessi, totale 151. Cinque i ricoveri, otto le dimissioni. Il numero attuale dei pazienti ricoverati e anche questa è una soglia psicologica che sta per essere abbattuta, è sceso a 161 donne e 39 uomini. Lunedì scorso erano 111, solo due settimane fa, ben 124. I tamponi effettuati si avvicinano a quota 6.000 negli ultimi giorni, 43 i positivi. Siamo tutti felici che il periodo di chiusura delle attività sia finito, avverte il direttore generale di SST Tommaso Saporito, ma questo non significa che l'emergenza sanitaria sia superata, anzi la circolazione delle persone ci obbliga a una maggiore responsabilità verso noi stessi e gli altri, quindi l'obbligo per tutti è di prestare grande attenzione alle attività e agli spostamenti. I dati sono in progressivo miglioramento, conclude, confidiamo che tutto proceda per il meglio anche nelle prossime settimane. Attimi di apprensione, quelli vissuti stamane intorno alle 12 e 30 nello stabilimento Tessuti di Sondrio in via Tonale, nel sito produttivo, uno dei più importanti della città si è verificato un infortunio sul lavoro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, coinvolto un operaio di 43 anni residente a Buglio in Monte. Per cause ancora da chiarire, l'uomo è rimasto impigliato con un braccio in un macchinario in funzione, ma la prontezza di riflessi dei colleghi è stata provvidenziale. I lavoratori infatti sono riusciti a liberarlo ancora prima dell'arrivo dell'ambulanza e dei vigili del fuoco del comando provinciale. Il 43enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale cittadino, dove gli sono state prestate le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi. Sulla dinamica dei fatti sono in corso accertamenti da parte dei tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di ATS della montagna. Uno dei temi discussi in questi giorni, quello della ripartenza, è proprio la riduzione dei rischi in azienda. Alle norme già presenti nei vari settori si sono sommate infatti quelle adottate nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Ma quella di oggi è stata una giornata importante per la ripresa di tutte le attività commerciali. Ha riaperti infatti quei negozi che dopo mesi di lockdown e enormi sacrifici finalmente hanno potuto riprendere la loro attività, adottate naturalmente tutte le misure di sicurezza verso i clienti. Emozione tra i commercianti che questa mattina hanno riaperto i propri negozi dopo la chiusura forzata per l'emergenza coronavirus. L'importante è aver riaperto, dicono all'unisono, ma le opinioni si dividono sul futuro che li aspetta. Oggi siamo qui fiduciosi, abbiamo riaperto, la città comincia a prendere vita, speriamo dai speriamo che vada tutto bene, noi il possibile l'abbiamo fatto, l'impossibile ci attrezzeremo insomma, via. Riuscirete a recuperare questi mesi? Sarà dura, sarà molto dura, sarà difficile perché quello che è stato non torna più indietro. Rivedere i clienti entrare? È molto emozionante, non vediamo l'ora. Come sono stati questi mesi? Sono stati destabilizzanti da un lato, ma dall'altro sono stati anche creativi per pensare a come poter vendere in modo diverso. Noi eravamo veramente emozionate, forse perché non siamo mai state così tanto senza il nostro lavoro, senza la nostra vita, ma penso che sia una sensazione mia, dei miei colleghi, ma di tutti, perché veramente avevamo probabilmente necessità di ripartire. Quali misure avete adottato per garantire la sicurezza dei clienti? Sono a disposizione igienizzanti in vari punti del negozio, guanti, monouso che diamo noi alle clienti e anche le mascherine. Abbiamo anche messo a disposizione l'ingresso nel camerino singolo, cioè che la persona non si incontrerà mai con la sua vicina di camerino, diciamo. È stato come riaprire nuovamente da zero, è stato anche molto emozionante, sempre con le dovute disposizioni, con molta prevenzione, però è proprio una nuova ripartenza. Siete scoraggiati o siete ottimisti? Ma io sono ottimista. Abbiamo la classica via di mezzo, la primavera che è completamente tagliata, tipo i 100 grammi, i giobbini, abbiamo perso le cerimonie che non ci sono più, dobbiamo puntare sul quotidiano. Crede che tanti negozi chiuderanno? Sicuramente. Intanto le attività che non hanno vissuto il lockdown contano le perdite che oscillano tra il 30 e il 40%. Noi siamo rimasti aperti, a differenza di tanti altri negozi, eravamo obbligati, ma come potete immaginare, essendoci il problema della quarantena, ovviamente c'è stata un po' di perdita anche per il nostro negozio. Avete registrato delle perdite? Chiaramente sì, diciamo che si è lavoricchiato. C'è servito per contenere un percentuale, un 30-40% diciamo in meno. Buone regole che consentiranno agli operatori di lavorare garantendo la sicurezza, così Commercio Sondrio valuta positivamente le misure previste nel decreto del governo e nell'ordinanza della regione che rendono compatibile la ripresa con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Queste misure, dichiara l'associazione di categoria, sono ispirate al buon senso e permetteranno da un lato ai clienti di poter tornare a consumare e ad acquistare in tranquillità e dall'altro agli operatori di poter ripartire. Augurando buon lavoro e un ritorno ai consumi e uspichiamo grande senso di responsabilità da parte di tutti in un momento sanitario ancora delicato. E finisce un incubo anche per i ristoratori, la vicinanza dei clienti con un buon numero di prenotazioni e attesa come la molla decisiva per poter ripartire alla grande, ma ora dicono servono contributi a fondo perso. La maggior parte delle attività economiche ha pagato a caro prezzo l'emergenza sanitaria. Dopo oltre due mesi di lockdown la voglia di guardare avanti con rinnovato entusiasmo, lasciandosi il passato e le difficoltà alle spalle alla meglio e in questo primo giorno di riapertura si parte subito con un buon numero di prenotazioni decisamente rassicurante. Quali misure avete adottato per garantire sicurezza ai vostri clienti? Ci siamo ottenuti il regolamento della regione Lombardia per quanto riguarda tutte le misure sia igieniche, sanitarie, per il distanziamento dei tavoli. Abbiamo provveduto a rendere al massimo della sicurezza ai nostri clienti che verranno qui. sia per quanto riguarda il servizio della cucina, usando delle cloche per coprire i piatti e altri, diversi altri accorgimenti che comunque non erano previsti dal regolamento. Oggi ci sono già le prime prenotazioni? Ci sono già diverse prenotazioni, siamo quasi una ventina a ora. Quindi la città risponde dopo mesi di chiusura? Siamo fiduciosi e va benissimo insomma. Come sono stati questi mesi? Beh, siamo stati preoccupati prima di tutto per la salute, la nostra personale, dei nostri clienti e tutto. Abbiamo sofferto ma comunque speriamo bene l'Italia si rialzerà. Per dimenticare questi mesi difficili di cosa avete bisogno? Abbiamo bisogno che lo Stato, le amministrazioni non ci promettano mari e monti ma ci diano piccole cose ma sicuro a fondo perso. Perché noi imprenditori, noi commercianti non abbiamo bisogno dei 30.000, non abbiamo bisogno di fare mutui ma ci bastano 3 o 4 o 5 mila euro a fondo perso. Prevista in origine per inizio giugno, la riapertura anticipata di ristoranti e bar dichiara l'assessore regionale Fabio Rolfi è una buona notizia per la filiera agroalimentare perché consente la ripartenza di un canale importante per la valorizzazione di prodotti come latte, formaggi, vino e salumi. Con il lockdown e lo stop alla ristorazione però più di una filiera dalle carni al lattiero caseario ha registrato un preoccupante calo dei prezzi, serve rafforzare l'alleanza, dice Rolfi che annuncia il bando Io bevo Lombardo, 3 milioni per sostenere l'acquisto di vino Lombardo nei ristoranti della nostra regione. L'obbligo di misurare la temperatura corporea al personale e all'ingresso nei luoghi di lavoro è senz'altro una delle novità più importanti in vigore da oggi in Lombardia. L'ordinanza firmata ieri dal Presidente Fontana ribadisce l'insieme di regole da rispettare nella nostra regione con la ripresa di altri settori di attività dall'economia al tempo libero. Vediamo. Regione Lombardia ha rafforzato e specificato con una propria ordinanza in vigore da oggi sino alla fine del mese le disposizioni contenute nel nuovo decreto della Presidenza del Consiglio in materia di ripresa delle attività. Al primo posto, ribadisce il Presidente Fontana, resta sempre l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni come misura preliminare e imprescindibile di contrasto alla diffusione del contagio, ogni qual volta ci si recchi fuori dall'abitazione. Sempre mascherina dunque o altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Riprendono l'attività di ristorazione, stabilimenti balneari e spiagge, strutture ricettive di ogni tipo, acconciatori ed estetisti, commercio al dettaglio in sede fissa, agenzie viaggi, commercio al dettaglio su aree pubbliche, mercati e fiere e anche attività in forma itinerante, uffici aperti al pubblico, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici. Sono altresì consentite le attività dei professionisti della montagna, guide turistiche, campeggi e villaggi turistici, rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, parchi faunistici. Tra le novità più importanti la rilevazione della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro per lavoratori ma anche clienti, fornitori o avventori esterni. Se risulterà superiore ai 37,5 gradi, non saranno consentiti l'accesso o la permanenza. La persona sarà tenuta momentaneamente in isolamento e senza accedere all'infermeria o punto di pronto soccorso aziendale. Il datore di lavoro è tenuto ad informare tempestivamente ATS e a seguire le indicazioni fornite. Il lavoratore a sua volta deve comunicare tempestivamente eventuali sintomi da coronavirus al proprio datore di lavoro. La rilevazione della temperatura vale anche nei confronti dei clienti o utenti prima dell'accesso ed è obbligatoria anche nei confronti dei clienti dei ristoranti con consumo sul posto. Sono consentite le attività sportive svolte individualmente all'aria aperta ma è vietato l'accesso a spogliatoi, docce, spazi comuni, piscine e palestre devono aspettare. Dal 25 maggio, poi precisa la regione, vengono riattivati gli impianti di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, ma solo per gli atleti delle squadre nazionali della Federazione Sport Invernali. Resta un mistero la vicenda riferita da un automobilista che alle 3.30 di domenica, mentre saliva lungo la provinciale 11 della Val Tartano, ha notato a bordo strada un uomo accasciato a terra. L'immediata chiamata al 118 ha attivato i tecnici del Soccorso Alpino di Morbegno e della Guardia di Finanza, la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco. Le ricerche però non hanno dato esito e sono state interrotte in tarda mattinata. Non si esclude che possa essere trattato di un falso allarme o più probabilmente che la persona in difficoltà si sia messa in salvo e abbia raggiunto autonomamente la propria abitazione. La giornata di oggi ha segnato anche il ritorno alle celebrazioni delle liturgie religiose collettive, prima messa celebrata alla presenza dei fedeli anche nella chiesa di San Giovanni a Morbegno. Alle 8.30 in punto una cinquantina di parrocchiani hanno fatto il loro ingresso in chiesa per non perdere l'attesissimo appuntamento. Ascoltiamoli. Prima messa con i fedeli dopo mesi in cui avete dovuto rinunciare a questo momento molto importante, cosa rappresenta per lei essere qui questa mattina? Per me è molto importante e sento tanta gioia nel cuore perché è una cosa che aspettavo già da tempo. Non si che sono la prima, che vuoi leggere? Con grande gioia che oggi o tante settimane non ci siamo ritrovati insieme in chiesa, oggi possiamo di nuovo celebrare insieme l'Eucaristia. Una cinquantina i fedeli presenti nella chiesa di San Giovanni a Morbegno, tutti distanziati nel rispetto delle nuove normative di sicurezza, per partecipare alla messa celebrata dal vicario Don Alberto Dolcini. Un momento atteso da molti morbegnesi che si sono riuniti in preghiera, presente anche il vicario episcopale, l'arciprete Andrea Salandi. Presenta certamente un bel momento di vita cristiana, riprendere a celebrare l'Eucaristia come comunità. L'abbiamo sempre celebrata e diciamo voleva per tutti ed era per tutti, ma certamente eravamo un po' da soli come sacerdoti. La presenza anche fisica indica, è un segno, certo è un segno esteriore, ma è un segno dell'essere una comunità. Don, questo è un nuovo inizio? Deve essere nuovo il modo con cui noi viviamo questo inizio, attraverso quei sentimenti, attraverso quegli atteggiamenti, attraverso quelle decisioni di responsabilità che questo periodo penso non solo ci ha insegnato, per certi aspetti ci ha obbligato a riflettere su questo. Cosa rappresenta per voi tornare a messa in questa giornata? Una gioia grandissima, un nutrimento dell'anima, una pace, un'emozione. Non venire a messa? Basta, venire a messa, insomma, la mia, mi ricariccio più per la messa che per tutto il resto. Cosa vi dà entrare in chiesa e pregare tutti insieme per la messa? È molto bello, è un'altra cosa, è molto bello, è molto bello. È una cosa bella, meravigliosa. È una grande novità, la nostra parrocchia è fatta così, la chiesa è proprio per essere uniti. Questo è un bel segnale che si ricomincia? Speriamo di sì. 10.000 euro in buoni spesa per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria e un pacchetto di misure fiscali per sostenere le imprese operanti nei settori del commercio e del turismo. Le azioni sono state messe in campo dal Comune di Tirano. Sostegno alle famiglie fragili, meno tasse per chi opera nei settori commercio e turismo. Vanno in questa direzione i provvedimenti varati dal Comune di Tirano. Grazie alla generosità di tanti tiranesi e non solo l'amministrazione comunale è in grado di erogare ulteriori buoni spesa a famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Sul conto corrente aperto dal Comune sono confluite donazioni per 13.600 euro. 10.000 euro verranno distribuiti sotto forma di buoni spese ai residenti che ne faranno richiesta. Le domande si possono presentare fino al 22 maggio. Sarà data priorità ai nuclei privi di qualsiasi introito, non destinatari di altri contributi pubblici e senza disponibilità di risparmi. I beneficiari saranno individuati sulla base della graduatoria predisposta dal servizio sociale e dall'ufficio di piano, valida fino al 30 giugno. Con i buoni spese le persone potranno comprare entro il 31 luglio 2020 i beni di prima necessità nei negozi convenzionati di Tirano, compresi nell'elenco disponibile sul sito del Comune, portale sul quale è anche disponibile il modulo di richiesta. Il coronavirus ha portato alla nascita di nuovi bisogni economici e sociali destinati purtroppo a portarsi nel tempo e che necessitano di nuove forme di solidarietà, spiegano il sindaco Franco Spada, l'assessore ai servizi sociali Doriana Nata. Tre le agevolazioni approvate dalla Giunta per le imprese, alle quali se ne aggiungerà una quarta fine anno. Le tassazioni comunali TOSAP legate all'occupazione suolo pubblico e l'imposta sulla pubblicità non saranno dovute per tutto il 2020 e a chi le avesse già pagate verranno restituite. Chi corrisponde un canone d'affitto al Comune di Tirano godrà di una sospensione dei pagamenti fino al 1 agosto 2020 e per compensare la perdita di posti a sedere o di coperti si permette di ampliare l'occupazione di suolo pubblico esterna fino a 120 metri quadri, entro il limite di tavoli preesistente. Il modo di richiesta può essere presentato in via telematica dando la possibilità di autorizzare in giornata le occupazioni già previste lo scorso anno e in arco di tre giorni quelle aggiuntive. La quarta agevolazione riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti che l'amministrazione comunale intende abbattere in modo sensibile anche utilizzando l'avanzo di bilancio una riduzione che verrà quantificata successivamente in base ai normativi nazionali. Oltre alle misure fiscali il Comune ha predisposto un kit di dispositivi che verranno consegnati a partire da questa settimana ad ogni attività un set di mascherine chirurgiche per i clienti, FFP2 per gli operatori una colonnina per il dispenser disinfettante. Abbiamo cercato di porre in campo quanto più possibile come Comune per venire incontro le difficoltà di un settore molto colpito dell'emergenza coronavirus, afferma la vice sindaca e assessora al turismo Sonia Bombardieri a accompagnare così la ripresa. Siamo in chiusura dell'edizione odierna del nostro telegiornale come sempre vi ricordo che potete seguire i programmi di Teleunica sui canali 12 e 193 del Digitale Terrestre ci trovate anche sulle nostre pagine dei social YouTube e Facebook e sul nostro nuovo portale dove seguire gli aggiornamenti delle notizie in tempo reale www.teleunica.com È tutto, grazie per averci seguito. Buona serata.